mmmm Insta Lola 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 Ho bisogno di un paio di occhiali Eh ma il posto è giusto Eh ma facciamo un controllo della pista visto che ci siamo Ok andiamo Poi Ivan sei malivosto Sei messo al mare Ecco fatto Eh Marco Non ho mai visto lenti così veloci Visionottica di Marco Notaro Auristano in via Sardegna Tutta un'altra visione Insta Lola Insta Lola Insta Lola Insta Lola